Ciao, sono Vincenzo e in questo video voglio spiegarti brevemente l'allenamento EMS. Si tratta di un allenamento della durata di 20 minuti, indossando una tuta con la quale vengono poi stimolate tutte le fibre muscolari. Come sappiamo, le fibre muscolari si dividono in tre gruppi, le fibre bianche, le fibre intermedie e le fibre rosse. Solitamente nella nostra quotidianità noi usiamo prevalentemente le fibre rosse, per cui lasciamo addormire le fibre bianche e quelle intermedie. Lo scopo di questo allenamento è quello di creare proprio uno stimolo su tutte le fibre muscolari del corpo, parliamo di oltre 300 fibre muscolari. con quale risultato? Con il risultato che la stimolazione di queste fibre va a sciogliere in qualche modo, concedetemi questo termine, tutta la dibe che si trova attorno alle fibre, per cui ha un effetto dimagrante se usiamo il programma dimagrante ed ha un effetto tonificante se usiamo il programma tonificante. Per cui, come potete immaginare, questo tipo di attività si indirizza all'atleta che vuole migliorare le proprie prestazioni fisiche, piuttosto che al neofita che approfittando appunto dei 20 minuti una volta a settimana riesce comunque a creare uno stimolo, uno riesce a smuovere tutte queste fibre muscolari del corpo. Perché 20 minuti? è la domanda che mi sento fare più spesso. È un programma che viene, che si spegne da solo, cioè non può essere modificato. È stato fatto uno studio, diciamo approfondito, uno studio medico scientifico con il quale hanno stabilito che oltre 20 minuti si alza eccessivamente un enzima del nostro sangue, che si chiama CPK. In 20 minuti questo enzima sale come se noi avessimo fatto l'equivalente di 4 ore di intensa attività fisica in palestra. Per cui in questi 20 minuti ci si concentra molto su stimolare appunto tutte le nostre fibre. Ripeto, in particolare quelle più dormienti. quindi non mi resta che invitarvi per l'apertura della palestra, officine del corpo, premetto che non bisogna fare un abbonamento, non bisogna pagare un'iscrizione, ma semplicemente concordare con me l'appuntamento perché l'allenamento sarà fatto individualmente al massimo in coppia. La promo di quest'anno appunto è l'allenamento in coppia a un, diciamo, sconto sulla prestazione singola. Per cui non mi resta che aspettarvi, invitarvi a venire qui a fare quest'allenamento che ripeto, sono sicuro che vi darà le soddisfazioni che voi vi aspettate da un allenamento di 20 minuti. A presto!